benvenuti alla seconda puntata di genesis la scorsa volta per chi non l'aveste visto abbiamo già avuto una puntata sempre quello stesso autore con cui faremo un percorso attraverso la vita di gesù e la sua famiglia alessandro de angelis un autore molto controverso molto criticato ma a noi piace così nel senso che diamo un punto di vista e lui comunque nei suoi libri documenta molto bene le sue ricerche benvenuto alessandro ciao carmen benvenuti a voi ai nostri ascoltatori e grazie di averci ospitato nuovamente la prima puntata ha avuto un buon successo diciamo buone visualizzazioni e siamo contenti così abbiamo avuto anche delle critiche ma noi siamo abituati anche tu sei abituato noi portiamo comunque i tuoi studi quindi insomma chi voleste approfondire avrà modo poi diciamo noi durante la puntata faremo riferimento ai tuoi libri non a tutti i libri in maniera tale che chi voglia approfondire l'argomento che trattiamo nella puntata di oggi possa fare riferimento direttamente ai libri che trattano di questo argomento l'altra volta abbiamo parlato di maria boeta terza moglie di erode e io prima di partire insomma con tutto il percorso e agganciandoci alla puntata precedente eh proprio per per dare possibilità a chi ci ascolta e chi ci guarda di avere più eh chiaro possibile il percorso che stiamo intraprendendo intraprendendo vorrei eh insomma parlare con te fare una sintesi in maniera chiara un po' molto più breve rispetto alla puntata precedente la prima puntata e poi chi vorrà approfondire andrà a riprestarsi quella insomma per poter agganciarci oggi. Ti va di fare questa sintesi? Sì soprattutto leggere sì soprattutto leggere libri perché ovviamente portiamo pillole di informazione altrimenti tutte le fonti di cui parliamo sono disponibili verificabili da tutti proprio nei libri tant'è che riceviamo eh non critiche ma insulti da parte dei credenti senza che nessuno poi vada a confutare eh argomentando le nostre scoperte storiche. Beh certe volte non si approfondisce neanche. Sto parlando di scoperte eh. Cioè nel senso che uno semmai risponde però non sta neanche a verificare le fonti no? Cioè fin tanto che uno insomma verifica le fonti e poi dice vabbè io su questa cosa non sono verificabili. Poi sono verificabili anche online basta leggere lo storiografo Tito Flavio Giuseppe i suoi libri sono eh visibili anche online per chi vuole ma vorrei ricordare che il nostro è un lavoro interdisciplinare fatto attraverso un una comparazione tra oltre i Vangeli canonici i Vangeli cosiddetti apocrifi le fonti del Talmud di Babilonia di Gerusalemme tutti i Vangeli canonici apocrici l'abbiamo detto più tantissimi storici da Tito Flavio Giuseppe Orosio Sbetonio Tacito e chi più ne ha più ne metta primi padri della chiesa eccetera eccetera per cui è la prima volta scusami prima di partire con riassumere quello che ci siamo detti la puntata precedente volevo dire volevo chiarire questo aspetto perché uno dovrebbe in effetti far riferimento al Talmud o alle fonti babilonesi perché eh le fonti talmudiche ad esempio eh i rabbini ci mh danno molte eh spiegazioni sui vari personaggi ad esempio su eh la genealogia di Gesù su Marta Boeto che Gesù sposerà nel sessanta tre dopo Cristo per tanti eh indizi che ci hanno lasciato attraverso poi questo studio di comparazione siamo riusciti a ricostruire tutto quello che eh è successo e parliamo ovviamente di decine di migliaia di pagine di libri le ricordo per allacciare eh oltre il velo di Iside abbiamo parlato precedentemente della scoperta di Maria figlia della regina che lo padre di Egitto del suo sacerdote Simone Boeto figlio di Boeto che incontrò a Tarso eh Marco Antoni e Cleopatra che fu fatto governatore di Tarso dopodiché il figlio Simone fu mandato da Alessandria d'Egitto e Tito Flavio Giuseppe ci fa sapere che Simone era sacerdote Alessandrino quindi sotto Cleopatra e Maria nacque da questa relazione intorno al trentotto avanti Cristo dopodiché all'età di circa quindici anni sposò il re Ero del Grande l'abbiamo ritrovato terza moglie come Maria figlia di Simone figlia di figlio di Boeto e nella famiglia dei Boeto abbiamo ritrovato tutti i personaggi di Vangeli da Giovanni Battista eh Giuseppe e Nicodemo Giuseppe da Rimare e Nicodemo che chiederanno il corpo di Gesù a Pilato e solo i suoi parenti potevano chiedere il corpo di Gesù Marta Maria Lazzaro di Betania Marta sposerà poi Giacomo fratello di Gesù e Gesù perlevirato nel sessantatré quindi ben dopo la eh cosiddetta morte di Gesù avvenuta nel trentatré secondo i Vangeli eh lo ritroveremo ancora in vita che sposerà perlevirato Marta moglie di suo fratello Giacomo che fu ucciso nel eh sessantadue ma eh riallacciamo un attimo le nostre scoperte come sono state fatte sono state fatte attraverso proprio lo storiografo Tito Flavio Giuseppe vivo e presente in quel periodo darerà tutta la vicenda di questi personaggi con le genealogie fino alla prima guerra giudaica eh raccontando ne parleremo nella prossima puntata anche la morte di Gesù avvenuta nel febbraio del sessantotto dopo Cristo e eh abbiamo pubblicato ben tre pagine di un vero discorso che Gesù pronunciò ai Dumei e Zerodi prima di essere eh ucciso il Talmud per esempio è stato importante per permetterci di svelare che quel Gesù del sessantotto era proprio il Gesù dei Vangeli e eh sì l'ha fatto un po' prima con quella con quella ufficiale in effetti certo ma infatti si parla aspetta collina pure perché si parla di una resurrezione carnale di Gesù non di una resurrezione sullo spirito eh tant'è che Paolo di Tarso sotto il procuratore felice intorno al cinquantotto fu mandato sotto processo perché eh gli ebrei volevano ucciderlo in quanto asseriva che Gesù era ancora vivo un Gesù eh che sia Paolo di Tarso sia gli apostoli eh sia altre fonti ci dicono che fu visto vivo parlare bene mangiare interagire con anche oltre cinquecento persone quindi la resurrezione di cui si parla eh su cui si parla di Gesù è una resurrezione nella carne e non nello spirito con un Gesù ancora vivo e vegeto tant'è che poi useranno una quantità enorme di disinfettanti come Elo e Mirra per eh quando Gesù poi dopo la crucifissione fu preso proprio perché era ancora in vita erano avevano un effetto analgesico e disinfettante questi eh queste misture eh ma eh dicevo le prove dove le abbiamo trovate lo storico lo storiografo Tito Flavio Giuseppe ci narra di una cospirazione di Maria terza moglie di Erode il grande contro suo marito Erode che avvenne nel 5 avanti Cristo attraverso un veleno fatto venire dall'Egitto e preso da Teuda tutto questo ce lo narra Tito Flavio Giuseppe quel Teuda ce lo dicono i primi padri della Chiesa del secondo secolo avanti Cristo e dopo Cristo scusami era il fratello del Giuseppe dei Vangeli e noi sappiamo proprio dai Vangeli che Maria fuggì poi in Egitto proprio con Giuseppe ebbene in Egitto poi nei testi copteri trovati nel dicembre del 45 Anagammadi secondo Apocalisse di Giacomo quindi ecco che portiamo tutte le fonti la Chiesa quei documenti proprio non voleva che fossero resi pubblici ci fa sapere che eh Maria ebbe da Teuda colui che prese il veleno per spacciare Erode e Giacomo fratello di Gesù ed ecco che allora eh si ha un quadro ben preciso di quello che è successo e dei veri motivi per cui Erode cercava Maria Giuseppe e Teuda Giuseppe e Teuda erano cugini tra l'altro del re Erode il Grande tant'è che poi Teuda venne ucciso prima del 6 dopo Cristo prima della rivolta di Giuda e Galileo ce lo dice il sacerdote Camaliele e a quel punto Maria sposò per levirato suo fratello eh Giuseppe quindi ecco che attraverso questa comparazione eh nessuno è riuscito a confutare questi documenti che per la prima volta danno un quadro preciso di quello che è successo in quel periodo ovvero Maria oltre ad essere la cugina del re Erode il Grande perché eh Cipro la mamma di Erode il Grande era la cugina della regina Cleopatra d'Egitto abbiamo fatto anche questa scoperta storica hanno censurato tutto di questi personaggi e gli erodiani facevano matrimoni tra di loro quindi Maria era oltre che moglie cugina di secondo grado del re Erode il Grande cospirò per avvenenare il re Erode che scoprì questa cospirazione furono costretti a fuggire in Egitto quando successe questo evento Maria aspettava da Erode il suo ultimo figlio Gesù di questo abbiamo parlato nella puntata precedente nella puntata precedente tant'è che i Magi poi andranno proprio a Gerusalemme ad incontrare Erode che disse ai Magi mandati da Archelao di Cappadocia eh che era un parente del re Ero del Grande perché la figlia di questo Archelao di Cappadocia Glafira sposerà ben due figli del re Erode il Grande uno era Alessandro alla morte di Alessandro che Erode uccise nel sette avanti Cristo poi sposò Archelao dopo Giubba secondo re di Mauritania qui abbiamo messo un elenco di tutti i figli del re Erode quindi allora C'è Alessandro se me lo ingrandisci in attimo Leonardo Allora ecco guardiamo bene il quadro C'è Alessandro Aristobulo Abbiamo Alessandro e Aristobulo che nascono da un'altra Maria seconda moglie del re Erode il Grande appartenente alla casata degli Asmonei furono uccisi da suo padre il re Erode il Grande nel sette avanti Cristo per per cospirazione contro il padre ma in realtà non cospirarono contro il padre fu eh la sorella di Erode Salome che inventò questa cospirazione per eh motivi di 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 invidia e gelosia verso Alessandro del quattro avanti Cristo poi ucciderà un altro suo figlio Antipatro 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 era figlio di Doris Doris era la prima moglie del re Erode il Grande e sorella di Giuseppe del Giuseppe dei Vangeli e di Teuda questo Antipatro nel quattro avanti Cristo fu colui che diede origine a tutta questa cospirazione eh dove con lui si alleò Maria Boeto terza moglie del re Erode il Grande Teuda e Giuseppe fratelli di quella Doris poi abbiamo alla morte di Erode il Grande Erode divise il suo regno in tre parti Archelao che rese Etnarca Filippo Tetrarca e Antipa Tetrarca fermiamoci su questi tre personaggi poi abbiamo un altro figlio Erode che sposò Erode da cui nacque Salome questa Salome andrà in sposa proprio al tetrarca Filippo ed è la famosa Salome che chiese la testa di Giovanni Battista su un vassoio d'argento e per ultimo l'ultimo figlio di Erode il Grande fu proprio Gesù e solamente i figli di Erode il Grande potevano aspirare ad avere la eh regalità quindi spiegiamo il concetto di tetrarca eh la tetrarchia erano tre eh alla morte di Erode ehm diciamo furono divise tra Archelao Filippo ed Antipa eh il regno di della Palestina la tetrarchia aveva tre zone quindi era eh tre zone su cui governavano questi figli sia Antipa sia sia Filippo mentre Archelao era Etnarca e tra le sue competenze territoriali c'era la Giudea Archelao morì nel 18 dopo Cristo ma nel 6 dopo Cristo venne rimosso dall'incarico da Roma per cattiva amministrazione e la Giudea questo è molto importante perché Gesù tra i capi d'accusa per l'esa maestà che prevedeva appunto la crocifissione eh l'input capo di imputazione fu quello di volersi fare appunto re della Giudea quindi la Giudea era stata annessa alla Siria che era provincia romana e il fatto che Gesù fosse ehm si volesse fare re della Giudea poteva dar luogo ad un processo da parte di eh del prefetto Pilato per l'esa maestà colpo di Stato ma perché diciamo eh questo perché pensa eh Carmen che fu proprio l'imperatore Tiberio ad un certo punto a mandare uno dei suoi messi Carios a dire siamo ancora su testi cotti eh che la regalità fosse data a Gesù e allora iniziamo a capire che cosa successe in quel periodo siamo nel trentaquattro dopo Cristo quando morirà il tetrarca Filippo sono tutti figli di Ero del Grande quello che aveva sposato Salomè da questa relazione non nacque alcun figlio e che cosa fece Antipa Antipa per cercare di avere la eh tetrarchia di Filippo si mise d'accordo con Erodiade la moglie di un altro suo fratello questo Erode da cui nascerà appunto Salomè dopodiché Tito Flavio Giuseppe che siamo su Antichità Giudaiche dove ci narra tutta la vicenda io cercherò di riassumerla poi leggeremo anche qualche passo che cosa fece Antipa per cercare di avere la eh la tetrarchia del depunto fratello Filippo si mise d'accordo di nascosto con Erodiade per sposarla perché Salomè la figlia di Erodiade era la regina vedova del tetrarca Filippo e si regò dopo eh che Erodiade accettò di sposare eh Antipa si regò dall'imperatore Tiberio si regò da Tiberio a fare cosa a chiedere la regalità la tetrarchia di di suo fratello Filippo che era morto questo fatto sollevò un putiferio perché perché Erode era ancora vivo quando Antipa si mise d'accordo con Erodiade per sposarla tant'è che Giovanni Battista solleverà il popolo contro Antipa e Antipa prese eh Giovanni Battista e lo incarcerò abbiamo tutta questa eh vicenda come venne a sapere eh Giovanni Battista e Gesù di quello che stava compiendo eh Antipa l'amministratore di Antipa era Cusa ovviamente quando Antipa andò dall'imperatore di Berio per chiedergli la eh la tetrarchia del depunto fratello Filippo doveva ovviamente convincerlo dicendo guarda dai a noi lascia a noi la tetrarchia ti daremo tot di tasse e per cui eh ovviamente anche il suo amministratore partì insieme ad Antipa per andare dall'amministratore dall'imperatore di Berio. Scusa Giovanni Battista in tutto questo com'era collocato? Cioè nel senso come aveva? Adesso ci arriviamo. Cusa? La moglie di Cusa era Giovanna una discepola di Gesù per cui Gesù e Giovanni Battista cugino di Gesù vennero a sapere quello che aveva progettato di fare il tetrarchia Antipa e dicevamo questo fatto portò ad una sollevazione a una quasi sollevazione del popolo da parte di Giovanni Battista perché Antipa stava violando le leggi ebraiche in quanto voleva sposare Erodiade quando suo marito Erode era ancora in vita non solo ma quando Antipa andò dall'imperatore di Berio sempre trovate tutte le documentazioni nei nostri libri. Quale libro in particolare? Sia sui re di re sia su Gesù all'ultimo figlio di Erode così ne mettiamo? Tutte le informazioni sono nel re dei re o in tutte e tre? Sì il Sosia Jesù all'ultimo figlio di Erode le trovate su tutti e su tutti questi libri. Perfetto eh quando Antipa andò dal eh l'imperatore di Berio per chiedere la tetrarchia del defunto fratello Filippo accusò suo fratello Erode di sedizione contro Roma e l'imperatore Tiberio diede il mandato ad Antipa di togliere tutte le ricchezze a Erode e di mandarle che gli fossero confiscati tutti i beni che e di mandarli a lui quindi praticamente sarebbero andati in possesso eh dell'imperatore e quindi eh di Roma. Quando Antipa tornò sposò Erodeade e eh però Giovanni Battista Gesù vennero a sapere attraverso Giovanna che era la moglie dell'amministratore di Antipa Guzza tutto quello che era successo. Infatti vi leggo un pezzettino da Tito Flavio Giuseppe proprio per far capire da dove poi traiamo le nostre fonti. Qui siamo su Antichità. Si vede benissimo. Perfetto. Dice tempo prima lei aveva disposto chi è questa lei? Questa lei è la moglie di Antipa. Non conosciamo il vero nome della moglie del tetrarca Antipa ma sappiamo che era la figlia di un re, il re Areta IV, re di Petra. Ok? La moglie venuto a sapere di quello che stava facendo suo marito Antipa cioè che si era messo d'accordo per sposare Erodeade aveva disposto ogni cosa inviato messi al Macheronte che in quel tempo era soggetto a suo padre. Quindi che cosa fece la moglie di Antipa? Venne a sapere quello che stava facendo Antipa che si era messo d'accordo per sposare Erodeade prese i suoi beni e li mandò nel Macheronte che era sotto la giurisdizione di suo padre Areta IV. Dopodiché Tito Flavio Giuseppe continua nella stessa pagina a raccontarci di quello che stava facendo Giovanni Battista. Ci dice che i suoi discorsi erano giunti a più grande eh grado di eloquenza erano di natura sediziosa e eh Antipa aveva paura che il popolo si sollevasse per cui prese Antipa e lo imprigionò la nella fortezza del Macheronte. È un falso. Questa seconda parte è un falso aggiunto dai matri dai padri a Manuensi perché? Perché poche righe prima Flavio Giuseppe ci fa sapere che la moglie di Antipa aveva mandato i suoi messi al Macheronte che era sotto il dominio del re Areta di Petra e il re Areta di Petra scese col suo esercito e sbaragliò l'esercito di Antipa perché aveva disonorato sua figlia sposando Erodiade e ripudiando appunto la figlia del re Areta di Petra. Quindi come poteva poi Antipa imprigionare Giovanni Battista nella fortezza del Macheronte che era sotto il dominio del padre del re Areta IV che dichiarò addirittura guerra ad Antipa è un clamoroso falso che fu aggiunto dai padri Emanuensi perché? Perché poi Giovanni Battista ce lo ritroveremo in vita anche durante la prima guerra giudaica e morirà addirittura nell'ottanta avanti Cristo con il nome rabbino Yocanan Benzaccai Giovanni figlio di Zaccaria e Giovanni Battista era figlio di Zaccaria ma questo eh fa parte poi di un altro percorso che troveranno sempre nei nostri libri quando magari ce lo racconti tu meglio perché sono in un'altra puntata ora ci troviamo però in questo periodo nel 34 in una situazione molto particolare pregherei Leonardo di far vedere un attimo o Te Garme di far vedere un attimo la cartina dell'impero romano Leonardo è regia perfetto se noi guardiamo la cartina dell'impero romano in quel periodo potete vedere se la puoi ingrandire un po' non so se la puoi ingrandire anche se vai sopra ma guarda noi ci interessa vedere che praticamente eh circontava l'intero Mediterraneo riuscire a vederla tutti quanti no? Magari se la riesci a ingrandire non importa che va sulle sui nostri colpi ecco circondava l'intero un mar Mediterraneo e vedete che la Palestina eh quale parte tu intendi la parte rossa? Sì tutta la parte rossa è la parte dell'impero romano la palestina era un piccolo pezzettino di territorio dell'impero romano ma era importante allora come oggi no sappiamo che c'è il canale di Suez è importantissimo per i traffici marittimi eccetera eccetera perdere quel pezzettino di terra avrebbe voluto dire spaccare in due l'impero romano e cosa in quel periodo il legato di Siria Vitellio era con quattro legioni a fronteggiare il re dei parti Artabano II c'era uno stato di tensione che poteva sfociare in una guerra quindi Tiberio non poteva permettersi che a retta quarta era sceso col suo esercito aveva sbaragliato l'esercito di Antifa Giovanni Battista stava sollevando tutto il popolo c'era il rischio che gli ebrei si sollevassero e quindi Vitellio con le sue regioni venisse preso tra due fuochi da un lato la rivolta degli ebrei che si sarebbero uniti con Artabano II contro Roma e che cosa fece a quel punto l'imperatore di Berio per cercare di sanare la situazione mandò uno dei suoi messi Carios trovate tutte le fonti documentali nei nostri libri guarda caso non ho capito perché nessuno ha mai parlato di questa cosa adesso si riesce a capire quello che è successo nel processo e Carios questo messaggero che mandò Tiberio con l'ordine di dare la regalità a Gesù perché Gesù era l'ultimo figlio di Erode erano morti tutti erano rimasti Antifa Erode che aveva sposato Erode che fu accusato di sedizione e appunto Gesù dopo che Antifa aveva rischiato di far sollevare l'intero popolo della Palestina contro Roma a quel punto Tiberio mandò Carios a dire di dare la regalità a Gesù Antifa venne a sapere tutto questo e che cosa fece siamo ancora su testi cotti sconosciuti alla maggior parte della gente siamo andati a vedere quando Antifa venne a sapere che Carios aveva ricevuto l'ordine da Tiberio di dare la regalità a Gesù chiamò i sommi sacerdoti e li minacciò di morte per tagliare la testa se non avessero accusato Gesù e si fece dare da loro una grande somma di denaro per corrompere Pilato affinché processasse Gesù tant'è che in alcuni massaggi che riportiamo nei libri Pilato quando portarono Gesù davanti a lui dirà come posso io che sono un governatore processare costui che è re come poteva in effetti Carmen se ci pensi il prefetto Pilato processare Gesù Pilato che ricevette una grossa fomma di denaro da parte di Antifa per processare Gesù e toglierselo dalle scatole nel momento che era stato lo stesso imperatore Tiberio a dare la regalità a Gesù diciamo che questa parte però nel testo ufficiale viene omessa certo che viene omessa e tutta la rivoluzione che abbiamo fatto attraverso i nostri figli il re era riferito cioè viene reinterpretato come una presa in giro invece era tutto vero invece era tutto perché l'accusa che mossero a Gesù fu quella di volersi fare re della Giudea e quello fu il titolo Gesù che misero sulla croce Gesù re dei Giudei ma perché perché la Giudea ricordate quando vi ho detto che era sotto l'etnarca Archelao altro figlio di Ero del Grande e che nel 6 dopo Cristo per cattiva amministrazione fu rimosso dal suo incarico e la Giudea tornò sotto la Siria che era provincia romana quindi la Giudea era tornata sotto l'impero romano in questo caso l'accusa che mossero a Gesù di volersi fare re dei Giudei e quindi della Giudea prevedeva il regato di lesa maestà con tanto di pena di morte e pensa che addirittura nel 36 l'imperatore Tiberio fece addirittura un senato colzulto che non passò ai senatori non fecero passare per deificare Gesù e quando venne a sapere quello che era successo sostituì immediatamente il prefetto Pilato con il procuratore Marcello questi ragazzi sono stati i veri motivi che portarono Pilato a processare Gesù però attenzione perché in realtà poi Gesù si salvò dalla crocifissione nel Vangelo di Marco si dice che fu processato crocifisso intorno alle ore 9 e poche ore dopo Giuseppe di Arimatea e Nicodemo andarono a chiedere a Pilato il corpo di Gesù morto tant'è che Pilato stesso si meravigliò dicendo loro come possibile già è morto e in realtà si moriva per soffogamento per chiusura dei polmoni dopo 4-5 giorni per la posizione che assumevano i condannati tant'è che i romani per alleviare il supplizio spezzavano le tibie ai condannati e questo a Gesù non successe ma non fu neanche inchiodato, non è stato ritrovato un solo chiodo lungo 11 cm su un calcagno di un condannato, il ferro era un metallo molto prezioso e pesante per i romani sia per le costruzioni per le armi, quindi venivano, infatti Paolo di Tarso ci disse che venne legato allo Stauros ma fu comunque non prima di venire torturato e flagellato questo successe abbiamo ritrovato dei passi dove appunto si parla di questo l'hai consegnato al supplizio della crocifissione dirà l'imperatore Tiberio a Pilato non senza aver ricevuto dei regali per la sua morte, lo accusò proprio di essere stato corrotto per aver condannato Gesù, ma in altri passi sentite che cosa si dice dopo la condanna Pilato aveva ordinato di scrivere il titulus in lettere greche eccetera eccetera Anna e Caifa dissero il fatto invece che i discepoli hanno dato molto denaro ai soldati e hanno preso il corpo di Gesù una doppia corruzione una doppia corruzione e sappiamo che Nicodemo e Giuseppe Darimatea abbiamo svelato anche chi erano questi personaggi riscostruito a tutta la genealogia uscirà sul libro Oltre il Vilo di Iside II erano personaggi molto ricchi dietero delle somme cospicue di denaro ai soldati per prendere il corpo di Gesù tant'è che nel Vangelo di Pietro mi stavo chiedendo quindi mi ritrago la domanda nel senso ne parliamo posto sì nel Vangelo di Pietro si dice che Gesù fu visto essere preso sotto le braccia da due uomini erano Giuseppe Darimatea e Nicodemo e allontanarsi con le sue stesse gambe quindi dobbiamo sottolineare che si è trattato ad una risurrezione fisica infatti per la prima volta questo porterà uno scontro poi tra gli gnostici perché tutto il precristianesimo era gnostico e i cristiani dobbiamo sottolineare che ci sono vari gnosticismi però cioè noi intendiamo l'ognosticismo sì però spieghiamo un attimo allora cosa è l'ognosticismo non potevano ammettere una risurrezione nella carne perché? perché gli gnostici qui dovrei anticipare un attimo quello che successe il 29 giugno 3123 avanti Cristo in quella data noi abbiamo trovato tutte le prove scientifiche ci fu la caduta di una cometa la cometa Bark che non era la prima però non era? non era stata la prima ce ne erano state altre precedenti la cometa che causò sì la cometa però già esistevano le prime forme di scrittura la cometa che causò poi il famoso mito del diluvio universale noi abbiamo trovato testi che non si trovano ovviamente in Italia ragazzi testi delle lamentazioni gli antichissimi testi sumeri dove si parla delle città stato sumere quindi Erido Nippur eccetera eccetera che furono distrutte dalla coda di questa cometa dopodiché la cometa si schiattò nel periodo Pacifico sollevò Neroceano Indiano scusa no dico stavo chiedendo un attimo sollevò onde di tsunami alte sì il periodo dei 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 arriva la mia voce arriva 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 e e si parla del disastro che causò questo questo immane catastrofe dove in questi testi si parla delle pietre incandescenti che cadevano da cielo vaporizzavano addirittura i corpi degli uomini bambini che chiedevano aiuto alle loro madri ma ognuno cercava di salvare se stesso poi arrivarono queste onde di tsunami prima di un vento fortissimo che anticipò l'arrivo di questo tsunami si parla delle inenerabili sofferenze che causò e che per poco non portò all'interestizione il genere umano dopo lo schianto di questa cometa e quindi gli uomini iniziarono a pensare ma come può esistere un dio che sia causa di queste inenarrabili sofferenze che faccia avvenire queste catastrofi tant'è che poi era data la colpa ad uno di questi personaggi sumeri Elil della caduta di questo asteroide e quindi iniziarono a concentualizzare l'idea che l'intero universo fosse stato creato da un dio malvagio un demiurgo e dagli arconti che stavano sotto di lui mentre il vero dio a cui si doveva poi ascendere era un dio trascendente al di sopra di questo demiurgo e per liberarsi dell'impurità creata dalla materia creata da questo demiurgo bisognava morire liberarsi dalla materia per riunire poi la propria scintilla divina a questo dio trascendente da cui si proveniva da lì poi abbiamo anche i miti della reincarnazione del buddismo erano anche in contatto con l'India questi paleocristiani quindi gli ignostici non potevano accettare una resurrezione nella carne di Gesù proprio perché non si sarebbe liberato dell'impurità della carne e quindi della materia creata proprio da questo demiurgo e questo portò a contrasti tra gli ignostici e questi cristiani tant'è che poi molti di quei testi cosiddetti apocrifi furono giudicati apocrifi dalla chiesa proprio perché vedevano invece in Gesù cercarono di trasformare la sua resurrezione non in una resurrezione carnale ma in una resurrezione spirituale dove si sarebbe liberato poi dell'impurità della sua carne ma pensa che intorno al 57 58 Paolo di Tazzo sotto il procuratore Felice fu procuratore dal 52 al 58 60 rischiò di essere ucciso perché asseriva che Gesù era ancora vivo e abbiamo trovato testi dove Gesù era vivo sotto l'imperatore Caligola sotto l'imperatore Claudio addirittura a Roma dove Svetonio Svetonio ci parla di un editto che fece l'imperatore Claudio di espulsione dei giudei istigati da Cristo stiamo parlando del 66 68 no del 66 siamo sotto Nerone siamo nel 49 sotto l'imperatore Claudio questo avvenne ed è Svetonio che ci dà questa informazione e lo storico Rosio ci dice che non si capisce se quella rivolta causata da Cristo quindi da Gesù lo chiama proprio Cristo non Cristo ma Gesù altra scoperta che abbiamo fatto attraverso la nonna Cipro cioè la mamma di Ero del Grande era imparentato con Mitridate e Cresto Cresto voleva dire il buono il valente il migliore epiteto attribuito addirittura anche ad Osiride chiamato un nefer mentre Cristo invece voleva dire il Messia l'unto il liberatore di Israele e lui nel 63 diventerà proprio prenderà il sommo sacerdote e quindi in lui c'erano le aspettative messianiche che vedevano poi in Gesù questo liberatore di Israele ma tutto questo percorso io adesso lo lascerei invece nella prossima puntata dove racconteremo tutta la vita di Gesù dalla sua liberazione fino al 68 anno in cui morirà e dove siamo in grado abbiamo addirittura tirato fuori per la prima volta tre pagine di un vero discorso di Gesù un Gesù che viene visto sotto tutta un'altra veste politico e militare che prese le difese del popolo di Gerusalemme contro le angherie degli zeloti e che fu infine ucciso insieme al sommo sacerdote a nano dai dumei e dagli zeloti quindi lasciamo alla prossima puntata la terza parte di questo percorso di Gesù che ci porterà fino alla sua vera morte nel 68 e a quella di Giovanni Battista che avverrà invece nel 80 ti richiederò di fare un riassunto sappi perché sono tantissimi nomi è così intrecciata complicata certo ma per la prima volta ragazzi oltre ad aver tirato fuori tre pagine di un vero discorso di Gesù abbiamo spiegato per la prima volta nella storia i veri motivi che portarono Gesù ad essere stato condannato i veri motivi che portarono ad essere stato processato da Pilato e il perché poi quell'epiteto di Re che addirittura l'imperatore di Berio voleva dare a Gesù quindi ragazzi stanno censurando e facendo congiura del silenzio su scoperte storiche di livello internazionale e purtroppo tutta l'informazione è controllata dalla bassoneria che fa finta che vuole attaccare il Vaticano ma poi fa congiura del silenzio contro queste scoperte storiche e arriveremo anche a capire il motivo poi più avanti io direi che farei riferimento ancora ai tuoi libri oltre a vero di Iside trovano la storia di Maria terza moglie di Eroni e vederei tutta la compilazione ok che è il primo volume diciamolo perché stai lavorando già al secondo al terzo e poi di questa lingua e quindi voglio dire perciò io ho detto sei molto io ti guardo a sinistra perché mi ti sei spostata a sinistra insomma sei un autore che scrive di continuo quindi è veramente difficile starti dietro sono argomenti complessi Yeshua l'ultimo figlio di Erode quindi della storia che abbiamo parlato oggi il re del re e il sosia nel sosia di cosa parli proprio della processfissione in mano? sì nel sosia diamo un'altra una parte di quello che poi andremo ad affrontare la prossima volta altre possibilità di come Gesù si salvò dalla resurrezione ne parleremo magari accenneremo anche a questo libro proprio nella prossima puntata riprenderemo dal sosia e parleremo poi dell'ultimo libro di quella tetralogia dei re dei re cioè i sigari dove c'è da mettersi le mani nei capelli perché perché hanno costruito il cristianesimo su tutti i erodiani sulla famiglia del re Ero del Grande Paolo di Tarso era addirittura il nipote di Ero del Grande Paolo di Tarso era il figlio di Erode e di Erodiade fratello di Salome ma quello che hanno fatto questi personaggi è qualcosa di nenarrabile non roviniamo il Natale a tutti quanti grazie a te per fare informazione ci sentiamo la prossima puntata poi magari uno non ci vuole credere voglio dire non è che è importante comunque è dare delle informazioni dopodiché ciascuno di noi può approfondire chiaramente tu documenti comunque in maniera eccessa quindi voglio dire ecco io pregherei pregherei invece di insultare i credenti se vogliono possono confutare argomentando tutto quello che dico sì sì quello sicuramente noi invitiamo sempre ad argomentare la prossima puntata qualora facesse domande domande sotto questa puntata magari la prossima volta poi insomma o ci scrivete va bene e risponderemo comunque alle vostre domande se volete a noi fa solo può fare solo che piacere grazie Alessandro ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti voi per averci ospitato nuovamente alla prossima puntata ciao 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 Grazie a tutti